Un intervento da 50.000 euro per adeguare i marciapiedi della città di Nuoro alle esigenze delle persone diversamente abili, costrette a utilizzare la carrozzina, ma anche delle mamme che girano in città col passeggino. L'iniziativa è stata presa dall'assessore alle attività produttive con delega alla Polizia Municipale e alla viabilità Francesco Guccini, che ha ricavato dal fondo, che raccoglie i proventi delle sanzioni del codice della strada, una somma da riservare a un capitolo destinato a interventi che ormai erano improcrastinabili. L'iniziativa è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa. All'incontro insieme all'assessore Guccini è intervenuta a Gonaria Congio, che da anni si batte per il riconoscimento dei diritti sacrosanti delle persone diversamente abili. Oggi avete presentato un intervento che rende questa città un po' più civile, un adeguamento dei marciapiedi alle esigenze delle persone diversamente abili. In cosa consiste? Intanto io credo che sia un segno di civiltà di qualsiasi aggregato umano l'attenzione nei confronti delle fasce più deboli. Quindi parlo non soltanto di persone con disabilità, ma parlo anche di persone che girano con il passeggino, piuttosto che anziani che non passeggiano come dovrebbero, che non camminano come dovrebbero. Quindi un'attenzione nei confronti delle fasce più deboli è sintomo di civiltà. Questa attenzione deve essere riposta non soltanto nelle buone intenzioni, ma anche nelle opere per cui cominciamo a fare e a riprendere in mano quelli che sono gli scivoli per i disabili, diciamo genericamente, nei marciapiedi. Quindi un intervento che comincerà nelle vie centrali, semplicemente perché è maggiore l'afflusso, è maggiore l'utenza, ma che dovrà di anno in anno estendersi in tutta la città. Intanto estendendo il pubblico anche a quello che è il privato, per cui fare sì che anche le attività private rispondano in questo senso. E poi grazie al fatto che abbiamo istituito un capitolo di spesa a valere su quelli che sono gli introiti delle multe volgarmente, quindi l'infrazione del codice della strada, un capitolo dal quale attingere ogni anno per fare e mettere a norma tutti quelli che sono per il momento le barriere architettoniche esistenti in città che riguardano in questo caso, in questo specifico caso, i marciapiedi.